Sono oltre 50 i medici che fanno riferimento alla struttura Fisionadi di Vismara. Pensate, tutte le branche della medicina. Non a caso oggi affronteremo un tema molto interessante per la metà del mondo che risponde al sesso femminile perché intervisteremo il dottor Paolo Perrella, un ginecologo che è qui presente nella struttura di Pesaro per visitare e soprattutto per prevenire le principali patologie che riguardano le donne. La salute a trecenti a trecentosessanta gradi, non a caso siamo qui nella struttura di Vismara di Fisioradi dove incontriamo oggi il dottor Paolo Perrella che è un medico chirurgo specializzato in ginecologia. Esatto, quindi facciamo questo incontro per presentare le più comuni patologie ginecologiche che sono lo spunto poi per una paziente per fare una visita diciamo, quindi campanelli d'allarme che possono dare alcune patologie appunto per diciamo spingere la donna a fare uno screening ginecologico che si è visto che è sempre più importante appunto in campo ginecologico. Certo, perché comunque tenersi sotto controllo, sapere come funziona il proprio fisico, il proprio organismo è importantissimo. Nel caso delle donne veramente ancora di più considerata che, permetteteci, la donna è la portatrice della specie e quindi noi siamo ben contenti che tutto vada molto bene, funzioni sempre bene con la donna più che mai. Allora, il tema di cui parleremo oggi è questo delle fibrosi. Perché? Perché la fibrosi è già il termine... Fibromatosi. Ecco, fibromatosi. Fibromatosi è già un termine che indica un pochino di via, di timore, ecco. Allora, la fibromatosi o i fibromi uterini sono una patologia benigna innanzitutto. Diciamo che nella maggior parte dei casi è benigna, è già... diciamo che raramente diventa maligna. Se diventa maligna, purtroppo è un tumore molto aggressivo, però fortunatamente rappresentano uno su mille pazienti con fibromi. Quindi, diciamo, il pericolo non è tanto la malignità, che è rara, ma i danni che puoi provocare a una donna, sia a livello di sintomi, ma anche a livello di fertilità. Ok, a livello di sintomi, per esempio, quando è che prendiamo e suoniamo il campanello del ginecola? Allora, i sintomi sono diversi. I sintomi vanno dalla mestruazione molto abbondante, quindi una metrologia, una meno metrologia, cioè una mestruazione molto abbondante, delle perdite intermestruali, quindi tra una mestruazione e l'altra. Poi ci sono dolori mestruali, dolori durante i rapporti, e anche certe volte, quando le dimensioni dei fibromi sono tante, si può arrivare anche a uno stimolo più frequente di fare pipì, quindi della minzione, e anche per arrivare a dolori lombari che si possono irradiare anche alle gambe. Queste, diciamo, in grosso modo, sono le principali sintomatologie dei fibromi. Che poi, come sempre, i sintomi hanno soprattutto delle cause. Certo, certo. I sintomi, poi, tra l'altro, cioè questi sono i sintomi, però in realtà bisognerebbe spingere la donna a fare dei controlli più, diciamo, regolari, perché spesso, quando c'è il sintomo, poi il fibroma è diventato di dimensioni importanti. Quindi, in realtà, si consiglia sempre una visita di routine annuale per scoprire, appunto, i fibromi quando ancora non danno i sintomi. I sintomi, poi, dipendono molto spesso dalla localizzazione dei fibromi e dalla dimensione dei fibromi. Più il fibroma è esterno e più si hanno problematiche legate alla, appunto, questa minzione frequente, ai dolori, più i fibromi sono interni, invece più vanno ad alterare le mestruazioni, quindi mestruazioni abbondanti, con anemia e anche più è interno, può anche poi dare questo spot in queste perdite intermestruali. Le cause? Le cause sono di natura genetica, quindi campanello d'allarme per le donne che hanno le madri e le sorelle con i fibromi, di pensare che anche loro possono, nella loro vita, andare incontro a questa patologia. La seconda è ormonale. Sono di solito stimolati dagli ormoni femminili, estrogeni e progesterone, quindi si sviluppano soprattutto durante la vita normale, e quindi, diciamo, durante, soprattutto dopo i 35 anni, dai 35 anni, diciamo che dai 35 ai 50, un terzo della patologia ginecologica femminile è causata dai fibromi. Logicamente, la cosa, diciamo, positiva è che una volta che vanno in menopausa, molte donne con i fibromi, che hanno avuto disturbi con i fibromi, se arrivano alla menopausa, poi la mancanza degli ormoni, fa sì che questi fibromi si possano ridurre, anche poi non dover intervenire in altro modo. Ecco, prima ha utilizzato proprio un concetto importantissimo, quello della prevenzione. Quando si parla di salute, sempre meglio prevenire che curare. Ma se si dovesse arrivare al punto di curare? Esatto. Diciamo che dipende molto anche in questo caso, quindi il sintomo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dei fibromi, la terapia dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dei fibromi. Diciamo che esiste anche una terapia medica, cioè una donna che arriva con dei fibromi di non grandi dimensioni, che non ha disturbi, che non ha sintomi, può anche sottoporsi a una terapia medica che è rappresentata dalla pillola. La pillola in alcuni casi può, diciamo, stoppare la crescita dei fibromi. Poi c'è la terapia chirurgica e quello appunto dipende quanti fibromi ho, dove ce li ho, quanto sono grandi. Adesso abbiamo fatto dei passi avanti e quindi diciamo che normalmente nella maggior parte dei casi riesco a operarli per via laparoscopica, quindi senza tagliare la pancia, diciamo, ma facendo dei buchi attraverso i quali poi vengono portati via pezzi di questi fibromi. Quindi, diciamo, sono interventi quindi laparoscopici che permettono alla donna di avere, diciamo, poi un decorso post-operatorio molto più rapido e quindi si riprendono molto più velocemente. Nel caso invece di numerosi fibromi di grosse dimensioni, quindi arriviamo anche a uteri del sesto mese di gravidanza, siamo obbligati a fare un taglio, tipo taglio cesareo, attraverso il quale poi li esportiamo. Ok, quindi i consigli del dottore sono stati chiarissimi, è davvero un consiglio a tutte le donne quello di tenersi sotto controllo e stare sempre molto attenti perché appunto queste piccole patologie, che tanto piccole non sono, possono sfociare in questioni abbastanza gravi. Esatto, quindi soprattutto cercare di, diciamo, di prevenire appunto la terapia chirurgica, come? Scoprendoli il prima possibile, tenendoli sotto controllo e oppure, nella peggiore dei casi, riuscire ad intervenire, diciamo, con una mini chirurgia mini invasiva. Perfetto, dottore, grazie. È stato chiarissimo. Un'altra davvero puntata interessantissima, grazie a lei. Grazie. Al prossimo appuntamento. Buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.